da bambino ero timido e pacato come quasi tutti i bambini educati e di buona famiglia dell'epoca nessuna parola fuori luogo tanto meno parolacce buongiorno e buonasera a tutti se mio padre mi fissava negli occhi io scomparivo ricordo che un giorno durante le vacanze estive ci fermamo dal meccanico per un guasso inaspettato e mentre curiosavo per l'officina guardando le automobili in riparazione ebbi letteralmente una folgorazione beh lo sapete tutti quanto i bambini amino il mondo delle automobili i motori il volante i pedali e fu quel giorno che nacque in me una profonda passione per le officine meccaniche ma chi non si ricorda che belle che erano le officine meccaniche dell'epoca con tutte quelle cose da scoprire i cofani aperti le montagne di pneumatici i motori le luci al neon le mani sporche che per un bambino scoprire che al meccanico nessuno gli diceva continuamente di lavarsele era già di per sé una speranza verso il futuro e poi per chi è stato bambino come me in quegli anni dove non c'era ancora la tecnologia il massimo era giocare con la cassetta degli attrezzi dunque c'erano le chiavi inglesi i cacciaviti i pappagalli i martelli i calendari sexy i calendari sexy sì i calendari sexy ma dai sì perché non lo sapevi ecco spiegato perché fu proprio negli anni 80 che si diffuse l'esclamazione che figata non so perché ma ancora oggi non c'è officina meccanica dove non facciano bella mostra di sé almeno un paio di calendari sexy appesi alle pareti ma fu così che in un pomeriggio di mezza estate di tanti anni fa che io mi appassionai al mercato delle automobili samba pati ti voglio ad ogni costo samba pati samba pati al costo di uno sbaglio samba pati samba pati accendi la mia vita samba pati samba pati e non c'è via d'uscita grazie a tutti